Cosa vogliamo fare oggi? Io voglio fare questo, Brilliant Restoration, 7 mana, tutti gli artefatti e gli incantesimi del tuo cesso tornano in campo, perché? Perché i prototipi te li giochi a poco e poi arrivano a tanto. Solo che 4 bianchi a 7 mana è difficile farlo più di 2 colori secondo me, perché Pirro diceva ci mette Febo, lei diceva anch'io lo so che ti mette Febo. Eh ma Boros perdo Flash Giorgio, perdo Warplow, perdo Famardu. Eh esatto, perché un altro pezzo, diciamo, della microcombo, io voglio fare questo, Beat Reunion, perché io dopo la Restoration, ovviamente 8 mana, o con una Power Stone, do rapidità a tutto il giro. Bruliamo, bruliamo. Chissà si possa usare un po' di Febo, Restoration of the Gangeo. Allora, vediamo i prototipi effettivamente quali sono. Questo non funziona. Questo non ha troppo senso. No, secondo me è Orzov, perché devi sfruttare anche Flash Gorger. Allora, secondo me è loro si devono essere per forza. Non so se è l'Assembler, non credo valga la pena l'Assembler. E per orino, vabbè, Emperor ce lo devi mettere per forza. È un 26 terre, non esiste che sia meno di 26. Per ora butto dentro, eh. Poi affixà, sì, vabbè. Warplow è per avere 12 prototipi, sì esatto. Touch per forza, sì, sì. Touch the Spirit Realm. Altri channel? In Mardu? Questo no. È un cazzo di channel in Mardu. No, di channel solo questo. Questo comunque entra e fa removal. Sì, sì, questo ci va. Sei a posto. Restazione Ganza, inizia a essere troppi troppo a tre. Dov'è tre Restoration, vabbè. Il rosso si serve per scartare. Quindi stiamo dicendo che noi non castiamo Flash Gorger dalla mano. Mai. Cioè, ce lo scartiamo e basta. O Splash Mardu. Allora, fable. Madonna, è troppo a tre, bimbi. Fable. Il Matt può essere, effettivamente. Sì. Peter. Una. Non di più. Bella, Charlie. The Populate. No, Liliana è doppio nero, sei pazzo. The Populate, ok. Serve un po' più di interazione. Restoration nove Ganjo. Quanti altri troppo a tre vogliamo, ragazzi? Cioè, c'è Fable che fa meglio di Ganjo. Con due carte. Ho metto un altro The Populate. Quanto vogliamo frattare, penso, in continuazione. Destroy Evil. Removal diretti, c'ho questi e The Populate. Forse ho due The Populate e un Absence. Fanculo Destroy Evil. Due Absence, è buona. Quasi Mono White. Abraid, no. Fodotrot, no. Mi sa che la base è Boros. Mi sa che Flash Gorger non lo castiamo. O si fa la mana base basata su Orzov. Solo su Flash Gorger è il più splash di Fable. Cioè, alla fine prendo la mana base di Portale, no. No, non c'entra niente Portale in questo mazzo. Cioè, Marduangeli, eccola qua. Non li si fa. Sondale. Sondale. Forge. Spring. Bridge. Bridge. Anctum. Caves. Gangio. Eta che non lo ha. Fine. Sì sì bravo Vediamo se effettivamente Fa delle partite di Magic Sì O se quanto c'è asfalta Monored per esempio E poi... Il bianco si trova Il problema nostro è che bisogna arrivare a vivi a turno 7 A turno 7 quasi sempre si è vinto Beh la fake ormai sono guarito Basiche no Nessuno spacca le terre in best of one Usare il blu per la carta che fa a blinkare Siamo penta Oppa è morto Are we deaded? Dio avversario Allora qui la curva è Reunion Scarto Giorgio Anzi scarto serafino Riesco 2 Curvetta Sì però Oppa io volevo far vedere il mazzo E questa curva funziona anche Tecnicamente Quattro bianchi A turno 7 e 8 Non dovrebbe essere un problema Tra Fable e tutto il resto Quindi non ho paura Della mana base Pentaco Raffine e Kaito Va bene E niente abbiamo vinto Mazzo imbattibile ragazzi Beater reunion Eh con looting Ok grazie Peter reunion Scarto serafillo Poi Giorgio Faccio cappone Tocco i crateri Bello Questo è l'intrattenimento che volevo Bello dove siamo partiti Siamo partiti da Mono Black Per arrivare a questa Follia Andare a esper E metterci Zur Più le line binding Ma sì Ma perché no La serie di Seitama sulla luna Esatto Imbattibile Ok Meta risolto Mazzo Fuori di testa Eh C'è poco da dire 100% win rate È chiaro Le scarti fa due pesori E peschi due Bravo Quella serve Big score Ok questa è una mano Vediamo come va Matt 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 non se l'aspetta nessuno Marto Giorgio Stupido 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 È solo un stupido Arvester Ah Ah il counterone è questo Questo è il counterone Male A posto A posto A posto Ma Praticamente io Lo devo togliere lui Per forza E mi scarto Un altro touch O la terra Ho scarto la terra Dai Ok Mi trada Al matt Eh Carta verissima Tre spasse Ragazzi Vabbè Counter Avelo il mazzo Vabbè Ciao Cavum Vabbè Noi siamo Provvisti No I removal Totale Contro qualsiasi cosa I forti del mondo Siamo A parte si vince a doppia fable Senza nient'altro Quindi Ci sta Taglia sotto Fable Fort plow Discarta Ok Se fable vuoi Sì Lei vecchia rossa Attenzione Qui si gioca Al serafili Al serafilius Faro di svulazzo Tiro la botta Nel viso Io ho visto l'app Per la kaizo Capitano Lo farò solo Per schierarla Nelle settimane E pressarla in live Bravissimo Quindi sacco Una creature Sacco Un enchantment Credo che sacco Questa fable Non gli voglio ridare Tre spasse Con questa fable Va bene 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 La faccio a risalla Shieldred Col seraf Lifeling Dove facevi tanti Kiki Sì ma gli davo Anche tre spasser Non ho bisogno Di fare tanti Kiki Ne basta uno Score Restoration Già è buono Sì Meglio Meglio Palaia Allora Lifelink Lifelink Do adagili 18 Eh sì Liana dei peni volanti Oh capo Restoration 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 Ora dalla cima Vinta Explorer Ci si dice Quando è Scientology Pim Ciò è costata Restoration Vinta ora 3-2-1 Vinta ora Now Eccola Easy Insomma Ecco i po' Di tocchi Che non è che ha fatto Chissà che Potrebbe andare molto meglio Se non avesse avuto Doppio tre spasser Però Voglio dire Prima partita Che quella di prima No Prima partita Ha fatto Quello che doveva fare Questo mazzo Taglia sotto Non ti preoccupare Ma io credo che Una febola La posso togliere Dai Insomma Scarta Scarta Sai Raffa è forte Di suo Come carta Lo dico da Beh cosa? Lo dico da quando è uscita No declina No declina Allora qui ho obbligato A parare Il 5-5 Penso Ah io voglio farla Un po' più safe Come cosa Io voglio assicurarmi Il trade Dai non può andare Non va a uno Para Para sempre Dai Non scherziamo Esatto Quindi il trade Lo voglio Voglio una bella Bordo pulita Una bella Bordo pulita Senza cazzi No avrebbe parato Non era l'Ital C'aveva Liliana No pulire tutto Ovvio che para Se è l'Ital Para ragazzi Però ha parato Comunque Ora è l'Ital 100% Quindi Oh first game Nonostante 14 Trespasser Addenzione Addenzione 200% win rate Sì sì Il calcolo è giustissimo Attenzione Buririanto restoration Buririanto restoration L'uomo decise Di cambiare Il meta Di rompere Il meta E lo fece La mazza è una favola Funge Funge Guarda un altro E vuole fare Le sporcizie Aia 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 Mi sa che lui fa le sporcizie Prima delle nostre sporcizie No no Già devastato Mic Già devastato Il meta Già posto Già fatto Già risolto Eh Tirasunde Però Tirasunde E 3 yard Va bene Torcio Torcio power Non mi piace Per star Tor Limited Era fino Da 6 Vigilance E che mazzo C'hai Io c'ho il protototo Dopo ppt Allora se fa titano Che mi spacca pezzo Non gli da Non gli da il pippolo Quindi posso fare De populace Non ho paura Del titano Che mi spacca pezzo E il fatto è che Questo mazzo Non ha paura Che mi spaccano i pezzi Non fa niente Se mi spaccano i pezzi Rakdos in historic Allora Non è il mazzo Più forte Dal punto di vista Del win rate Ma è il mio mazzo Preferito E credo che in historic Gioerò sempre Solo Rakdos E maghi Dora in poi Poi vedremo No Con l'antology Vediamo C'è roba da fare Restoration 3 Il tenta cruel È lì Deve fare Erika No deve fare Sì Deve fare Il farm Devo finire Rocket died out Cioè Devo finire La torre Prendere Svegliare snorlax E andare a fare area Qui fa il 4 vattro E mi spacca il 5 vattro Oh Se è furbo Segnalino È esatto È furbo Ora mi tocca esiliarlo Vabbè Lo esilio Non abbiamo problema Credo che più per i punti di vita Mi interessa il vigilanzo Per l'errore Di un'errore Di un'errore Vattitura Ufficialmente Dove le carte lanciate Con costo di prototype È prototyped Ma è bello Non è Non è sbagliato È bello Prototyped Morde con raid Cacar Cosa Atacca Oh Gesù Ah protoiped E' bello protoiped Quello è un problema Da sette mana ci voglio arrivare Anche Oppo ha fatto un mazzo interessante Bello Bravo Best of one è chi scomba prima O chi uccide di quarto fondamentalmente Quindi è bello Ok gg No la win rate del 100% Maledetta E ora siamo soltanto al 128% di mid rate Eita Da replicare La stessa filosofia Ok Ok Terra non piango Matt carta più forte di magic Matt carta più forte di magic Il good boy di metallo ragazzi Madonna 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 Troppo eh Troppo eh Un po' too much Piccola fable Raishu Va bene Prendo Allora Faccio così Passo di lì Prendo porto V Però è presto per Emperor Tra me si fa absence Sul Raishu Si pare al 33 E dopo si fa restoration Che pesco terra ovviamente Lo so Attenzione Alza non attacchi Dragon engine Questo si esilia Pumario Va bene Va bene Attenzione Attenzione Fra la Nato Fra la Nato Fra la Nato Ok Passo Bello Sto pesco Paolo Fusin Mai Cazzi Gira tutto La signorina Faro Ah lui ce l'ha un botto Secondo me Qualcosa Ho pazzo se c'è un blocco Kikijiki Tanto non mi serve a niente 4, 5, 6 E chiaramente il turno dopo Se pesco terra posso fare Restoration Però anche nella peggiore Delle ipotesi Mi fa strike faccia 3 danni E non mi toglie Kikijiki Non penso Strike faccia Dash Chi l'hai preso un po' al Q Vai Vai flink Vai flink E Emperor Fa un altro Pippolo Secondo me Nella peggiore Delle ipotesi Con questo Rimbalzo Su Ispira In mano Se rischia qualcosa Still stabilizza Da morire Il serafillo Ragazzi Stabilizza Da dio I prototipi Sono una macchina Da stabilizzazione Devastante Raishu È chiaro Tocca Easy Easy stabilizzamento totale dei totalis Mamma mia Mamma mia Temporali lockdown No No Sì Proprio Facilo Facilo Una curva Ci sa il blocchino Table Prototipi I miei calcoli non sono errati Siamo al 524% De win rate Esatto Sì Good game Va bene bro Che ti devo di Ha deciso te che è good game Cosa posso fare io Eh Jesus Scusa Non avevo visto che era nostro signore Gesù Cristo E allora ha ragione E oppa Gesù Eh A lord and savior Sì è tipo Shin Gesù Questo Sembra Shin Jesus Lo vedo come personaggio di Street Fighter Akuma Versus Shin Jesus Fight C'avrà un mazzo della madonna Sì Corretto Vabbè Rafin fa le sue cose da Rafin E ti seguo Tribale passa isole E c'è con due game E adesso è good luck Ed fun Non sbagliano Tutti a fare good game A caso Non vuol dire Quello Aia Io volevo scartare Delle figu A questo punto Declino Faccio Seraph Perché è bilanciato Volante Enzo Paolo Turchi E ci pianta Un art Robo Prow Ho tornato un artigian Su Legend of Dragoon Mi dico come mai domenica Non è uscito la puntata Ci sono stati problemi Sì Per colpa della malattia Siamo rimasti Silvia bloccati qua Fino ad oggi Torniamo a casa domani Devo tornare a casa il 2 Quindi non ho fatto in tempo A postare Un'altra puntata Di Legend of Dragoon Per Come ho già detto Perdonatemi Torneranno le puntate Di Legend of Dragoon Ricominceranno Mercoledì 7 Ho saltato una domenica Perdonate Perdonate Templar Cazzo Devo pensare Sbagliato No no Ormai siamo guariti Saremmo malati Mh-hm-hm Nel senso Meta devastato Guarda La fine era un po' e non la vedevo nemmeno io effettivamente Certo Io spero attacchi con She-Holdled Ma mi sembra un po' telefonata E cioè Emperor anch'io no? J'adore No non è telefonata evidentemente Non abbastanza C'ha plaza e lo deve fare Lo so che c'ha plaza lo deve fare No non lo fa Mai Pisco remove e poi non lo posso usare Tocca faccia un blocchino Depopulate Depopulate facile proprio Easy Ma gioco eh giuro Non è The Populate questo Vediamo se la pescavo No E niente The Populate Maledetto Eh devo vedere The Populate Lì Quindi ora a questo momento La win rate è abbassata Del Ora siamo circa 368,2 Di Di win rate Ha vinto Gesù Non che ne avessi dubbi Come fa a non vincere Gesù Come fa a non vincere Gesù Una partita di Magic Vinta Keep vinta Automatico Bosto C'è proprio facile Gesù Gesù Perdi Ok Pollo Pollo Ma rendi in frame Sul token Ma veramente Ma un po' too much Giorgio Attacco curioso posso dire Un altro landing flame Chichi chichi però mi sa che lo devi fare Proviamo Gira tutto il tuttibile Io gli trado il tradabile Ma se ho miso al di Giorgio Grazie caran Grazie mille per il quinto mese e per le parole Quanto serafo Ri Giorgio perché no Voglio dire Duppi Giorgio in campo Buongiorno 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 That's nice Ma perché farlo se posso tenermelo Visto che posso attaccare Andra Va bene un sinno Lui esilia Scappa Sque Non gli manca una carta Ri 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 I grilli cantano Pinta di lifelink Fondamentalmente Non trovano red Va bene Via via Vediamo quante ne vinciamo effettivamente Tip totale Vinta Assoluto Imbattibile La carta più forte di magic Il good boy metallico Scarto un George boss Va benissimo Easy favola Serestus Scarto Giorgio E una sul full spring Mi servono terre bianche Easy Ha senso fare adesso Seraph Si Certamente ha senso Full lifelink Ok il turno dopo restoration Spaccami seraph Qualcosa No No Don't È presto È presto Prima deve fare The populace Rob Però c'è il problema Che Mi fa farewell Vabbè se non risolve Vabbè se non risolve questa bordo Ha perso in campo Viene Bene bene Steve Qua Alex Come ti identifichi oggi E questo è un problema E questo è un problema Urza lord and savior Urza lord and savior Ti saluto Carta fastidiosa Carta fastidiosa però Ok Come si scarta Restoration purtroppo Eccoci va Prefeable Piccolo passo per noi Un grande passo per l'umanità Un grande passo per l'umanità Ok Ok È chiaro Vero qua È uno Mi lo porto via No Chiaramente No Non è reanimator È un Restoration Ci dovevo provare Ragazzi Ci dovevo provare Se sto fermo Faccio un cazzo Fortunatamente Lui si è scordato D'avere un field of ruin Che non è una cosa brutta Però appena fa la mixtone È chiaro Dalla Dalla mano Portale di firexia Oh aspetta Dai Potrei pescare Non è ancora finitissima Maybe Vabbè questo esplode Tipo il pesco Giorgio Inizia a fare Giorgio Fable Arrota Tipo No Però appena Fisca mixtone Che poi Io continuo a dire mixtone Ma è Wickstone Basta Basta Farewell Ce n'hai tredici Va bene Va bene bro Va bene Che mondo simpatico Il best of one Questi mazzi Gridissimi O c'è Il bello del best of one È che c'è O super aggro totale C'è proprio Solo schiaffi Chiudo di terzo Dovete andarvene tutti in culo O I mazzi più Gridilenti Combosi Dell'universo Come cazzo ti chiami te? Kip Matt Scarto Warplow Ok Dovete essere forti Come loro al gioco Ieri giocavo Izzet Prove Si standard Dopo mi ha fatto Tre cut down Nei primi quattro turni Doppio dei popoli Temperor È normale Come on Come on Gio 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 Guardando I hope you're ready to move Strike fast and strike hard Piccolo heading Faccio pipulilo Gio 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 Amiglio I fa bonus mid sembrerebbe certo 4 per Angelo Prototype dai con una terra faccio Restoration da doppio pezzo grosso ho senso ahie Vecco farewell impossibile però lo devo fare let's go mostri mordi quanti lavori fai? io non ti sto dietro e sì ma tutti sti farewell in best of one da quando? comunque dai è morto e spacca tutto e tocca ok sto mazzo perdere a farewell non mi aspettavo tutti i farewell del mondo in best of one ma evidentemente in best of one la gente traiarda quindi va bene bella mord va bene io lo direi in colloquio con un moderatore della gleba un moderatore di punta della gleba il moderatore capitano bene abbiamo perso perfetto eeeh che dire ok questo vince finchè non trova farewell l'idea è quella l'idea è quella monored distrutti eh monored distrutti eeeh farewell un po' c'è in culecchia